Il 29 giugno terrò un concistoro per la nomina di 14 nuovi cardinali. La loro provenienza esprime la universalità della Chiesa. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignore Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell'Aquila. Un grande onore per l'Aquila la nomina di Monsignor Petrocchi, Arcivescovo dell'Aquila, cardinale. L'Arcivescovo metropolita dell'Aquila, infatti, Giuseppe Petrocchi, è tra i 14 nuovi cardinali che saranno nominati dal concistoro del prossimo 29 giugno. A comunicarlo è stato Papa Francesco in persona, a margine del Regina Celi, in piazza San Pietro. È stata una sorpresa totalmente inaspettata e penso che voglia essere anche un segno di vicinanza del pontefice per l'Aquila e per tutte le popolazioni terremotate del centro Italia. Queste sono state le prime parole dell'Arcivescovo Giuseppe Petrocchi che ha voluto ringraziare Papa Francesco per la fiducia, affidando tutto a Maria Madre, modello della comunione della Chiesa, prima di ufficiare la Santa Messa nella parrocchia del Comune Aquilano di Tornimparte, dove si trovava subito dopo la nomina cardinale. Secondo quanto si apprende, almeno per il momento, l'Arcivescovo resterà alla guida della diocesi aquilana. Petrocchi è nato ad Ascoli Piceno 70 anni fa, è stato vescovo di Latina, Terracina e Sezze, priverno dal 98 al 2005, per poi essere nominato nel giugno 2013 da Papa Francesco alla guida dell'Aquila. Al prelato, che è arrivato in città nella difficile fase post-terremoto, è stato riconosciuto il merito di aver risanato economicamente la cura aquilana e di aver rilanciato l'azione pastorale. Queste sono state le prime azioni intraprese da lui alla guida della cura aquilana.